L'armatura si frantuma sotto la stretta di quest'affare Anche la mia lo rocca di vestiti Dai me ne farai una miglia Puoi riprovare a liberarti con 6 dadi Sì Ho un dado in più per la cosa? No perché ci sono i vizi che lo attaccano Speriamo che ci riesca per l'amore del cielo Quanti devi fare qua che succede? Ma porta di quella noia Che palle o... Potresti sempre usare un... Non servirebbe, devi fare 4 Però il danno sarebbe sempre minore O gli dai sempre 8 È sempre 8 Quanto hai per resistere al dolore? A un fottio A 2 per lo scudo Sì no A tanto e poi finiamo come prima No Hai 5 più Credo abbia 7 5 di muscoli più 2 del gladio Lui non ha più esperienza No Ne ha 5 adesso No ne ho meno Sì lui ha preso 2 skill Non ce l'hai cancellata L'ho cancellata adesso Ero a 6 punti Ne ho usati 3 Sì ma non te l'hai cancellata quando hai preso le 2 skill Adesso sì l'ho tolta Sì ma adesso l'ho tolta Ho tolto tutto insieme E' bassa Ah ok Adesso Quindi adesso sei a 0 Ero a 6 punti Eri è 6 Ti sei preso 2 skill La prima skill ti è costata 2 La seconda skill è costata 3 Ok E poi ti l'ho messo a 0 Sì sì E così se no l'ho detto Ha preso 2 skill E ha ancora 5 di esperienza No no È lui che diceva così O io che ho cancellato Scusa Vabbè chi se ne frega Continuiamo ad ucciderti No infatti è questo Dovemmo cercare di salvarlo Eh non ci siete Se abbiamo insoldato Emma Non ti dobbiamo Sette d'aria hai detto Ah giusto Poi frantumi lo scudo Oppure Oppure tiri per resistere al dallo Il fatto è che se frantumi lo scudo ora Perdo Poi il prossimo turno E' un casino Io ti consiglierei Tira adesso coi dadi Ma anche vada Non muore Sì Non muore Quindi resisti con 7 dadi Prova a resistere Prova a resistere Sembra l'idea migliore Senti Siamo agli sgoccioli Non è che forse Proviamo a vedere coi dadi Ormai i dadi Voi siete stati più forti Soppia 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 Oh sì Sì Tutti i successi Tutti i successi Madonna Tutti i successi E' fanculo Ok prendi un danno Allora E' fanculo Magari così Magari avessi tirato così Per liberarsi Adesso puoi Provare a liberarsi Che cazzo Sempre 6 No 6 6 Uno in me Lui però ha protetto Un suo legame Ho protetto L'acadia Sì Che ha un punto extra In più di esperienza Così Forse Dipende Ti vedo Quanto sarà necessario Dartelo Lo metto Qual è il tuo legame Corregate? Sono la sua sorella maggiore Il mio compito è Farsi che non le accada a casa Ok sì allora hai un punto Sopravvivenza Quindi 7 dadi No hai un punto Sopravvivenza No finiti da parte Col punto di sopravvivenza Perché se scendi sotto le 5 ferite Ti servirà per curarti Ah ok ok E ti servirà in quel caso Sì Giusto il vecchio baby Non l'ha visto morire L'ha visto morire Allora Non credo che c'è alcun legame con voi Non avevi legame? Non credo Va bene Oh No No Perché per liberarti Fai schifo E non rompere E bravo a uccidere Non posso fare niente Non posso fare niente Devi usare il dado giallo di bassa Se no Se no non succede un coso Quindi Mi attacca di nuovo 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 Prima hai avuto Il dio e sette danni Quanto hai preso di danni tanto? Quanto hai preso di danni tanto? Sì Non ti può uccidere Neanche se gli fallisci tutti Allora Uno Sette danni No Dieci di vita Sì però c'è la tabla mutilazione Eh Massimo viene mutilato Ah Se lo potrebbe tirarlo Vai Quanti ne hai tirati tra l'altro Uno Sette Dai ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Tre ferite Beh dai sono ancora in piedi su Ok quindi a quattro ferite ora Meno uno Meno cinque Adesso E ora ti conviene utilizzare l'esperienza Per curarti Quanto mi do Ti darò l'algo di salute Quindi vado a tre Sì Vai a meno tre Ok E ora ti prego liberati Eh non rompermi Sato i tuoi personaggi sono masochisti Non è vero Non è vero Però è incredibile Ti ricordo un sacco di dadi Prova a darmelo Che cosa ti devo dire Se mi porta sfigati picchio Io metterei via quello verde Hai sei dadi eh Via questo E prendi un altro Uno, due, tre, quattro, cinque, sei Ok vai Somma ragazzo Dai 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 Tre, quattro, cinque Finalmente si è liberato E che cazzo Si Oh Finalmente E va a fanculo Va a mostro di merda Hai tutti i segni sulle braccia eccetera L'armatura Adesso che sei libero dalla presa Cade a pezzi Fanculo Hai soltanto la tua tunica Fanculo Lo scudo ancora integro E visto che non hai fatto altro che subire danni Lo scudo ancora integro Grazie a contrattacuo Hai un dado in più Il che significa che adesso Tiri dieci danni Ci divertiamo Ci divertiamo Ci divertiamo cazzo Dai il dado di basso Tira di tutti Non ne abbiamo Si giusto Non ne abbiamo abbastanza di dadi Allora è che non vorrei prendere le 11 Ne abbiamo di più No si perché lui Lui tiene i suoi da parte perché oggi ha condivido Allora 10 dadi Si Vediate I soliti 6 più Faccio fatica a tirare che sono grossissimi Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci Uno, due, tre, quattro, cinque, 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 cinque successi Sì Ok Quattroia Ah Ah Tra l'altro da dove lo attacchi Eh Di lato Ok No dietro basta Basta cazzo Quanto ho fatto scusa? Due successi Due successi Ok Il braccio a mazza ti arriva addosso per otto danni Basta Provo a parare di nuovo A resistere quel cazzo che cos'era Sette 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 Quattro Cinque Sei, sette Via Che rottura Dai, dovrai avercela fatto Tre successi In realtà non puoi farcela perché sono otto danni Sì In ogni caso ne subisci almeno uno Tre successi Quindi ne subisci cinque Minchia Aspetta un attimo Cinque è il tuo numero unscoli Sì, il che significa che comunque non subisci la mutilazione Ah ok No aspetta Sì sì No è che hai sempre il punto di esperienza Quindi ho perso cinque adesso Sì E hai un meno uno permanente Cazzo Due Tre Sto morendo Davvero è Kadia sta soltanto manendolina? Lei non può per asomare sto figlio di puttare e farlo tagliere O magari le mani da Totti Lei non ha mai traspato niente Ma sì, poi tu tirò 8 danni e tirerai comunque più di lei Anche se lei è la diaplasmatrice Sì sì Ma lei non è niente in realtà Ma sì Al momento Ma che cosa avvenuta la dia Che tristezza Sì ma davvero sta lì nascosta del tipo Totti e di la spada di mia madre almeno Più sto per In realtà Pensavo di farglielo fare di dare la spada Ah però poi ci ho ripensato No perché E io non do Ma è la spada di sua madre Non è che può darla a chiunque Sì sì E quel qualcuno Non la date neanche mio padre Quindi Nove dati come prima Aspetta scusami Cosa uscite? Non voglio usare quei dati Non girano Non girano Perché sono grossi Ok quindi hai nove dati Nove dati Se non lo so Un attimo E dai Ok Vedo già 3, 4, 5, 6 successi C'è un critico Sei il critico Sei successi o un critico Oh finalmente Minchia Alleluia Danno extra Eh sì sì Ok Altri Sì Mi sono rotto i coglioni Deve morire Ssshum Lo colpisci alla scella Della barmazza Che ha rubito Grida terribilmente agitando Le sue appendici Grazie.